11. La famiglia dell'ingegnere Sermanni era una delle più conosciute e stimate di Siena. La nobiltà n'era antica e il nome dei Sermanni figura nella storia senese ogni qualvolta si è trattato di difendere una causa giusta. I Sermanni furono tra coloro che contribuirono maggiormente a sollevare il popolo alla morte dell'orgoglioso Pandolfo Petrucci. Essi combatterono sino all'ultimo per l'indipendenza del nostro paese e non si acquietarono se non quando ogni speranza di rialzarne le sorti fu perduta per sempre. Le vicende, forse una poco savia amministrazione, avevano consumato gli averi della famiglia Sermanni come quelli dei Monteroni. Giuliano e Ida Sermanni erano oramai i soli discendenti dei fieri repubblicani senesi. Giuliano, povero, avuto riguardo al nome che portava, era stato indirizzato da un padre intelligente verso quegli studi da cui potesse trarre un serio partito. Difatti, rimasto solo a 23 anni, aveva saputo provvedere onoratamente a se stesso, serbando tuttavia quello che rimaneva del patrimonio per darlo in dote alla sorella. Della sua origine non verrà altro in lui che una nobile fierezza e quella garbata sicurezza nei modi, quella misura in ogni atto, in ogni parola, che si succhiano, si può dire con latte, e che i plebei arricchiti non giungono ad acquistare giammai. Egli non voleva udire del resto o parlare di nobiltà e andava solo glorioso della fama che cominciava ad acquistarsi col suo lavoro. Benché giovane, aveva già viaggiato assai. Era stato in Inghilterra ed in Australia, dove aveva fatto molti studi sulle miniere, specialità a cui egli poteva dedicarsi, soprattutto nelle nostre maremme si abbondanti di terreni metalliferi. Mi pareva un poco singolare che un tal uomo potesse essere invaghito di Virginia, ma le sue relazioni con la famiglia Contucci, originate dall'amicizia per Ippolito, di cui era stato un poco il mentore in collegio, furono sempre delle più strette. Nelle vacanze, fin da giovinetto, il signor Giuliano, come tutti lo chiamavano a Monteroni, soleva recarsi al castello. Aveva veduto crescere Virginia e più tardi forse l'affetto, che comprese di ispirare alla fanciulla, lo commosse. Senza possibili calcoli da parte sua sulla dote della giovinetta, era venuto ad una promessa formale di matrimonio. Pure il suo amore per lei non era vivo. Lo vedevo spesso distratto al fianco della fanciulla, che lo molestava con malcelati sarcasmi. Il lampo di gelosia che aveva brillato negli occhi di Virginia nella sera dell'arrivo del fidanzato non era ancora spento interamente. Egli indovinava senza dubbio i di lei sentimenti, perché da quella sera in poi pareva evitare con cura di dirigermi la parola. Ma sovente, quando stavo silenziosa in un angolo, avevo sorpreso gli occhi dell'ingegnere fissi sopra di me. Mi studiava, forse, come un enigma vivente, domandandosi qual era il motivo della malinconia che mi opprimeva. Senza che io avessi mai dato aver un'adesione ai progetti del mio tutore, mi avvedevo bene che oramai ero risguardata da tutti, come la fidanzata di Ippolito. Un'apatia piena di disperazione mi tratteneva dal provocare uno scandalo con un aperto prematuro rifiuto. Il signor Giuliano doveva credere che io fossi di pieno accordo con la famiglia Contucci. Perciò forse gli occhi dell'ingegnere sembravano talvolta indagare i miei pensieri. Ne provavo una specie di malessere e nello stesso tempo una soddisfazione piena di inquietudine. Ahimè, presentivo forse sino da allora quale terribile catastrofe la reciproca simpatia che nasceva, nostro malgrado, doveva portare per l'avvenire. Un dopo pranzo, per caso straordinario, ci trovammo soli un istante. Io stavo nel salotto quando egli entrò, guardò intorno, poi venne a me senza esitanza. Mi disse, senza preamboli, che era felice di trovarmi sola, perché aveva ricevuto una lettera della sua sorellina a cui aveva scritto di me. La piccola Ida era beata che egli mi conoscesse e lo pregava di rammentarla a me. Povera bimba, concluse Giuliano, se osassi andrei a pigliarla e la condurrei qui, sarebbe così felice di rivederla, signorina. E io dunque, esclamai con calore, avrei tanto bisogno di un'amica. Di un'amica? Disse allora il signor Giuliano con lentezza e fissandomi con quei occhi profondi che mi turbavano l'anima. E perché no di un amico? Io amo Ippolito sino dall'infanzia. Non è un essere perfetto, ma lo credo migliore assai di quello che appare. So che ella sarà sua sposa. Provai una scossa violenta. Un accento di diniego mi venne alle labbra, ma ebbi sufficiente impero su di me per reprimerlo. Giuliano, osservando quel movimento involontario, si era arrestato e mi guardava con maggiore insistenza. Chinai il capo per non vedere il suo sguardo. L'amico dello sposo, ripigliò Giuliano, può essere l'amico della sposa e forse indiscrezione la mia. Saremo quasi parenti. La sua voce tremava. Egli era commosso. Perché? In quanto a me tremavo come se stessi per commettere un'azione colpevole. Non verrà nulla di più innocente nel nostro colloquio, nulla di più rispettoso dell'attitudine di Giuliano. Eppure una voce segreta mi diceva di fuggire, di non ascoltare quell'accento pieno di dolcezza se non volevo che la mia vita avesse ad essere funestata un giorno da qualche orrenda tragedia. Gli è che sentivo purtroppo che avrei finito con amare quell'uomo. E paventavo tremendamente che qualcuno leggesse nel mio pensiero. Mi allontanai perciò vivamente da lui, udendo aprire l'uscio del salotto. Era ippolito. Corrugò il sopracciglio vedendomi sola con l'amico. Dovevo avere l'aspetto imbarazzato. L'ingegnere invece recuperò tosto la sua calma. Non badò al cipiglio di Ippolito e mi tese francamente la mano, dicendo mezzo rivolto a lui e mezzo rivolto a me. Chiedevo alla signorina Pia la sua amicizia. Mi pare che la tua fidanzata non possa essere una persona indifferente per me. Hai tutto il tempo per fare la tua domanda, rispose Ippolito con accento sgarbato. La signorina Pia non si è mai decisa a darmi una risposta definitiva. Essendo una Monteroni, sdegna probabilmente un contucci come me. Queste parole potevano essere un biasimo diretto a Giuliano, che aveva chiesta la mano di Virginia. Egli dovette pigliarla in questo senso, perché mi guardò con sorpresa. Aveva sposato con troppa franchezza le idee dei nostri tempi, per serbare alcun pregiudizio nobilesco. Stava a me certamente dire qualche cosa contro i sentimenti attribuitimi da Ippolito, ma per nulla al mondo avrei potuto formulare in quel momento un'adesione, oppure motivare una ragionata ripulsa al mio fidanzato. Stetti dunque muta, impacciata, avrei voluto essere a due metri sottoterra. Sopraggiunse per fortuna il rimanente della famiglia, e quell'incidente non ebbe altro seguito. Ma ne nacque un certo imbarazzo per tutti e tre, è una freddezza mal definita tra i due amici, che doveva produrre purtroppo le più disastrose conseguenze. Ad aggravare gli inconvenienti delle nostre rispettive posizioni venne un altro piccolo episodio, sciocco se vogliamo, ma cheppure contribuì non poco a fissare il mio destino. Al suo ritorno dal viaggio, Ippolito aveva riso assai della mia affezione per il vecchio Fido. Diceva che era una bestiaccia buona a nulla, forché ad abbaiare, ed ogni qualvolta lo vedeva al mio fianco mi chiamava scema, perché non mi decidevo a cacciare quel povero vecchio amico. Un giorno, mentre ci trovavamo tutti sparsi nel giardino, Fido ebbe la malaugurata idea di seguirmi dappresso. Ippolito non era lontano, e sui suoi talloni camminava il suo più bel cane da caccia. I due animali si odiavano. Oreste, il bel levriero, meglio trattato, era più insolente e cominciò a grugnire vedendo avvicinarsi il vecchio Fido. Bentosto il cane di Ippolito si pose a ringhiare. Fido, che era prudente assai, si avviò per allontanarsi. Il mio fidanzato, che si trovava di pessimo umore, fece un gesto al suo favorito come per incoraggiarlo a inseguire il suo innocuo nemico. Oreste non se lo fece dire due volte, e si precipitò sul povero Fido. Sebbene prudente, quest'ultimo, non era affatto codardo, si rivoltò cercando di difendersi, ma era più piccolo, più vecchio, fu bentosto malconcio, e si pose a guaiere miserevolmente. Giuliano era indietro con Virginia. Ippolito pareva incitare malignamente la mischia. Io non mi fermai a riflettere, ma udendo i guaiti del mio vecchio amico, mi lanciai per separare i combattenti. Se non che Oreste, il quale non aveva mai ricevuto una carezza da me, mi si rivoltò fieramente, si rizzò in piedi, e mi addentò un braccio con tanta furia che io mandai un grido di dolore. Fido era potuto fuggire con la coda fra le gambe. Ippolito cacciava a calci il suo cane, ma io non mi reggevo più, quando sentii due braccia vigorose che mi sollevavano, e la voce di Giuliano che mi sussurrava di avere coraggio. Chiusi gli occhi, il primo spasimo era stato veramente atroce, ma quando mi trovai sollevata nelle braccia di Giuliano, provai tosto una specie di benessere. Lasciai cadere il mio capo sulla sua spalla e finzi di essere svenuta, confessando a me stessa che avrei voluto che quell'istante durasse un'eternità. L'ingegnere mi trasportò in casa, il contucci sopravvenne e mi mostrò una grande premura. Tutti mi erano intorno. Si parlò di chiamare lo speziale di Monteroni e di cauterizzare la ferita. Mi difesi energicamente, non volevo soffrire un male inutile, persuasa che il cane non era arrabbiato. Egli è soltanto cattivo, dissi. E Ippolito ebbe torto da ezzarlo, soggiunse quasi severamente Giuliano. Che, oseresti dire che l'ho spinto contro la signorina? Esclamò Ippolito, che aveva quasi la schiuma alle labbra. No, rispose Giuliano pacatamente, ma contro una povera vecchia bestia innocente che va rispettata. La farò uccidere, gridò Ippolito. Silenzio, disse il contucci intervenendo. Nessuno toccherà il vecchio fido. È sotto la protezione della mia pupilla e basta. La pia andrà a riposare e tutto sarà finito. Il male è meno grande di quello che credevo. Accettai immantinente di ritirarmi. La ferita era medicata alla meglio dalla cesira. Mi levai per uscire. Ippolito stava ingrugnito in un angolo. Giuliano mi offrì il suo braccio. Ma Virginia gli passò dinanzi, scostandolo senza complimenti e facendogli intendere che toccava a lei l'accompagnarmi nella mia camera. Giuliano si inchinò in atto di adesione. Io uscì con Virginia. Non pronunziamo una parola finché non fumo sulla soglia di camera mia. Giunte colà, Virginia torse il suo braccio dal mio e disse con accento amaro. Sarete contenta. Avete posto la discordia tra tutti, ma ve ne pentirete, lo giuro. Che intendete dire? Esclamai, che Ippolito è stanco della vostra condotta a suo riguardo e che se le cose durano ancora a lungo in questo modo, si spargerà ben altro sangue da quello che è uscito dal vostro braccio. E dette queste parole, che dovevano essere sì tremendamente profetiche, ella mi respinse nella mia camera e si allontanò correndo. 12. Nella notte ebbi certamente la febbre, ma non fu il male fisico che mi tenne d'esta. Una inquietezza tormentosa mi faceva soffrire immensamente. In vano volevo celare a me stessa che un profondo affetto per Giuliano invadeva poco a poco l'animo mio. Tentavo di far tacere il mio cuore, ma esso rivendicava i suoi diritti e si apriva tutte quelle sensazioni soavi ed amare nel tempo stesso che annunziano l'amore. Sarei riuscita a soffocarlo? I giorni che seguirono furono imbarazzanti e poco piacevoli per tutti. L'ingegnere stette quasi sempre fuori col contucci occupato alla miniera. Ippolito girava per il giardino cupo e pensoso. Sorvegliava attentamente il suo cane tenuto alla catena. Il mio braccio era quasi guarito. Il medico aveva approvato la fasciatura della cesira e assicurato che Oreste non offriva avere un sintomo di idrofobia. Malgrado di ciò non venne rimesso in libertà dal suo irritato padrone. Virginia era sempre asciutta, anzi aspra con me. Non lasciava sfuggire alcuna occasione di mostrarmi l'odio suo. Stanca di sopportare il suo pessimo umore, mi decisi a rimanere più che potevo in camera mia, togliendo a pretesto ciò che era vero, la mia salute poco soddisfacente. Tutte le agitazioni da cui ero tormentata mi avevano prostrata assai. Un mattino scendevo sul tardi, all'ora in cui sapevo che l'ingegnere era già uscito di casa, poiché entrambi evitavamo di incontrarci. Stavo appena in capo alla scala quando intesi un colpo d'arma da fuoco. Ma restai sbigottita. Non so quale presentimento fece tremare le mie gambe e paralizzò le mie forze. Veniva di fuori un rumore confuso di voci e di passi. Che era mai avvenuto? Raccolsi tutto il mio coraggio per andare a vedere cosa fosse, ma non ebbi tempo di scendere. Ippolito saliva in furia la scala, livido in viso, con gli occhi accesi. Che avete? Esclamai, arretrandomi sempre più spaventata. Venivo a cercarvi, disse egli con voce concitata. Venite, venite con me. Mi prese per la mano e mi trascinò con sé quasi per forza. Giungemmo sotto il vestibolo. Là, steso a terra, tutto coperto di sangue, circondato da tre o quattro contadini, giaceva Oreste. Il bel cane da caccia di Ippolito. Mandai un grido, esclamando. Che avete fatto? Che avete fatto? Ho fatto giustizia, rispose acerbamente Ippolito. Ecco il fucile con cui l'ho ucciso. Voi, dissi, piena di raccapriccio. Sì, io, replicò. Esso è ben morto. Volevo che vedesse il vostro nemico atterrato. Ora, soggiunse rivolto ai contadini. Riportatelo via e sotterratelo. Tremavo come una foglia. Fui costretta di andarmi a sedere sulla prima seggiola venuta nell'anticamera terrena. Ippolito rimase in piedi dinanzi a me, con le braccia incrociate. Non siete soddisfatta? Disse egli con voce cupa. Non vi ho vendicata come dovevo. Ho atteso otto giorni interi per essere sicuro che Oreste era pieno di salute, allegro e festoso. E poi l'ho immolato, in espiazione del suo fallo. Tacete, balbettai con ira repressa. Mi fate orrore. Come avete potuto commettere freddamente un simile assassino? Non avete cuore. Siete voi che non avete cuore. Voi che mi fate soffrire in modo atroce, rispose violentemente Ippolito. Sì, ho ucciso il povero Oreste che amavo. Ma amo voi, al di sopra ad ogni cosa, e guai a chi vi tocca. Vi amo, continuò, prendendomi le mani e stringendole con brutalità, sino a farmi male. Vi amo alla follia. Perché mi torturate e mi rendete malvagio? La violenza di quell'affetto, che si rivelava in modo inaspettato per me, mi spaventò. Cercai di svincolarmi. Non mi avete mai parlato così? Mormorai. No, replicò egli. Non vi ho mai dette queste cose. Non le sapevo neppure io. Posso spiegare quello che provo. Dapprima non vi diedi molta attenzione. Sapevo che mi eravate destinata da mio padre. Mi piacevate, ecco tutto. Ma poi mi abidi che eravate orgogliosa, che mi fuggivate, e cominciai a risentire per voi ira ed affetto nello stesso tempo. Finalmente compresi che mi disprezzavate. Non è vero, dissi io per calmarlo. Oh, sono giunto a leggere, nell'animo vostro. Sì, mi disprezzate, perché sono il figlio dell'antico fattore. Basta osservare il vostro contegno con Giuliano per sapere quale differenza vi sia ai vostri occhi tra il nobile Sermanni e il plebeo Contucci. Mentite, dissi io spramente alla mia volta. Non ho mai pronunziata una parola né commesso un atto che possa compromettermi rispetto al vostro amico. Lo so, né vi accuso di alcuna cosa sconveniente, rispose Ippolito, ma da tutta la vostra persona traspare la simpatia che egli vi spira. Se non l'amate sareste disposta ad amarlo, e guai a lui, guai a voi. Non una parola di più, interruppi, posandogli una mano sul braccio. Pensate che è il fidanzato di Virginia. Appunto, parliamo di Virginia, ripigliò Ippolito, imprigionando la mia mano nella sua. Virginia, sapete, è più terribile di me. Siamo violenti e vendicativi tutti nella nostra famiglia. Intesi dire che mio padre, ora sì pacifico, sia spramente vendicato di una donna che l'aveva disprezzato. Pensate a quello che fate. Se il matrimonio di Virginia non si compie per colpa vostra, ne nasceranno dei guai tremendi. Non nascerà nulla, dissi a battuta. Potete suppormi capace di rompere un matrimonio? Non mi conoscete? Sì, vi conosco. Non muoverete un dito, lo so. Ma voi avete ciò che manca a Virginia. Avete qualche cosa che attrae a voi. Giuliano può amarvi se non si pone un argine tra voi e lui. No, no, cominciai. Ebbene, interruppe egli, chinandosi verso di me e stringendomi fortemente la mano. Rendete impossibile una cosa simile con una sola parola. Dite quando avranno luogo le nostre nozze. Avevamo fissato il Natale per Virginia. Acconsentite che avvenga lo stesso anche per noi. Provai un istante di smarrimento indicibile. La prospettiva mi sembrava spaventevole. Il mio stato non sfuggì ad ippolito. Abbandonò le mie mani ed esclamò con accento amaro. Come vi siete fatta smorta. Il solo pensiero di divenire mia sposa smarrisce i vostri sensi. Avete giurato di ridurmi alla disperazione? Sarete soddisfatta da quello che avete veduto oggi. Dovete argomentare ciò che potrei fare, dove sapessi un rivale tra voi e me. Scorderei ogni amicizia, ogni antico legame. Così mi rifiutate? Soggiunse con esplosione dopo un momento di silenzio. Ditelo una volta. Lasciatemi riflettere. Risposi con voce debole. Domani ve lo giuro. Darò una risposta a vostro padre. Ora permettete che mi ritiri. Mi levai con uno sforzo. Vedi allora sull'uscio che conduceva agli appartamenti terreni, Virginia immobile. Da quanto tempo si trovava Colà? Né Ippolito né io l'avevamo osservata. L'aspetto della fanciulla era tempestoso come quello del fratello. In mezzo a quei due esseri violenti mi sentivo schiacciata, annichilita. Traversai l'anticamera terrena senza guardarli e posai il piede sulla scala per salire in camera mia. Ma le mie gambe tremavano. Stavo realmente poco bene e la salita mi riusciva penosa. Ippolito se ne avvide e si lanciò verso di me su per le scale. Vuole sollevarmi nelle sue braccia, ma io ritrovai sufficiente energia per liberarmi in mantenente. Egli ridiscese allora due o tre gradini a precipizio, gridando con un accento che mi parve terribile. E avete permesso a Giuliano di portarvi attraverso il giardino. Me la pagherete, me la pagherete. Si diede un gran colpo nel capo e si precipitò come un pazzo fuori di casa.